Il sottosegretario dell'agricoltura Patrizio Lapietra ha incontrato a manduri agricoltori e imprenditori i tarantini. Un dibattito pubblico organizzato dai parlamentari Dario Iaglia e Giovanni Maiorano affrontati i temi di stretta attualità che attanagliano il settore. È stato chiesto al rappresentante del ministero di farsi portavoce per un progetto di rigenerazione delle aree attaccate dall'Axilella e poi la tutela dei prodotti e in particolare del Made in Italy per allargare il raggio di azioni a nuove fette di mercato estero. Sicuramente ascoltare è fondamentale che un rappresentante del governo sia su questo territorio per ascoltare gli imprenditori agricoli. Poi in un territorio così ricco di eccellenze, penso al problema del vino ma anche al problema dell'Axilella, dell'olio. Siamo qui proprio per capire come poter intervenire perché purtroppo nel caso specifico non è stato gestito bene tant'è che ormai è sotto l'occhio di tutti che stiamo perdendo questo meraviglioso territorio degli olivi e della produzione dell'olio. L'attenzione c'è, questo è il nostro dovere, noi prendiamo le istanze del territorio e le portiamo a Roma, quando è possibile prendiamo le componenti del governo e li facciamo interagire direttamente con il nostro territorio alla difesa delle nostre eccellenze e del nostro appunto territorio ambiente. Abbiamo voluto fortemente la presenza del nostro sottosegretario all'agricoltura perché è uno degli argomenti, uno dei settori più importanti per il nostro territorio per cui ci sembrava giusto e doveroso far incontrare al senatore e alla pietra quelle che sono le nostre realtà produttive, economiche e rappresentare i problemi di questo territorio e chiaramente le soluzioni che il governo ha in mente.